Blogosfere Design & Style al Milano Design Village, in occasione del Salone del Mobile 2011, incontriamo Roberto Bosellis, CEO di Poltrona Frau Group. Ciao Roberto, benvenuto su Blogosfere. Ciao a voi. Roberto, in occasione del Salone del Mobile, Poltrona Frau Group sbarca sul mobile. Ci racconti le applicazioni e questo ingresso importante? Sì, è un percorso che è iniziato l'anno scorso con la creazione del sito web di gruppo. Abbiamo iniziato una strategia sul canale digitale che permettesse una standardizzazione dei contenuti e della navigazione, mantenendo chiaramente l'identità molto forte dei gruppi. Legato a questo, il percorso è andato avanti con una web tv, che riprendiamo quest'anno con un canale dedicato su YouTube, dove tra l'altro si potrà anche vivere l'evento del Milano Design Village 2011, e sbarchiamo anche sulla mobile con l'applicativo che sicuramente è di grande impatto e di design, che sono le app sui dispositivi di iPhone e iPad. Un'app per ogni brand, il catalogo, dove si troverà l'intero catalogo dei prodotti, le schede dei prodotti con dimensioni e finiture, ma anche un qualche cosa che permetta di emozionare con il dettaglio, dove si potrà ammirare i particolari della manifattura italiana, si potranno visitare i nostri stabilimenti e si potrà anche interagire con i modelli 3D, dove si potranno applicare le finiture nei vari tessuti. E quindi cerchiamo di informare, ma cerchiamo anche di emozionare e speriamo anche di fare un divertire. Senti, quanto conta oggi internet per comunicare il gruppo? Ma è un gruppo sicuramente molto forte, il cui il prodotto è chiaramente il punto, il cardine e sicuramente la parte negozi, dove si possono apprezzare i nostri prodotti e dove abbiamo delle ottime persone che riescono a spiegarlo, è il punto corretto dove poter dare la massima enfasi del prodotto. E' anche vero che la nostra distribuzione sta diventando sempre di più una distribuzione internazionale ed è vero, e queste statistiche ce lo dicono, che le persone prima si informano sul web, chiedono le dimensioni dei prodotti, in che finiture possono trovarlo, chiedono qual è il negozio che è più vicino e magari più comodo per raggiungerlo, chiedono magari di mandargli una mail per fissare un appuntamento, si informano anche sui designer, che per questo gruppo è una collaborazione molto forte, e poi vanno nel punto vendita per approfondire, per provare i prodotti, perché chiaramente è un prodotto che deve essere toccato con mano e vissuto. Roberto, grazie e buon salone del mobile! Grazie a voi!